La Commissione europea ha dato il via libera a Lufthansa per l'acquisizione di una prima quota di Ita Airways, il 41% per 325 milioni di euro, ma solo a determinate condizioni che assicurino il rispetto delle norme europee sulla concorrenza. La decisione, attesa da tempo, è stata accolta con favore dal governo italiano, dal momento che con la vendita sarà tolto dalle spalle del bilancio dello Stato un grosso onere finanziario. Entro il 2033 la compagnia aerea tedesca acquisirà il 100% della società italiana. Possiamo dire che la logica ha prevalso sui vari ostacoli e penso che con la logica questa operazione continuerà ad essere portata avanti e a concludersi deve essere un elemento di successo per l'Italia, per la Germania, per Lufthansa e per soprattutto i nostri passeggeri. Grazie. Anche l'amministratore delegato di Lufthansa ha colto con favore la decisione, definita un chiaro segnale per un traffico aereo forte in Europa, che potrà fermarsi con successo nella competizione globale. L'accordo è appunto soggetto a condizioni. La Commissione ha chiesto l'accessione di alcune rotte e alcuni slot all'aeroporto di Milano alinate ad altre compagnie aeree, per mantenere la concorrenza nelle rotte a breve e a lungo raggio. L'accordo inoltre non potrà essere finalizzato dalla Commissione finché le compagnie aeree rivali non accetteranno di beneficiare delle misure correttive.